L'idea è che le istituzioni, la città metropolitana, la provincia di Cremona e Regione Lombardia insieme hanno deciso di assumersi questa responsabilità di chiudere il più possibile velocemente e unitariamente i lavori sulla paullese. Tutti i tratti che sono sospesi cercando di affrontare ciascuno dei nodi che abbiamo di fronte dando un quadro completo, unitario e assumendoci direttamente le responsabilità. Io credo che sia un buon modo di esercitare l'impegno amministrativo. Oltre alla città metropolitana erano presenti la Regione Lombardia che finanzia l'opera e la provincia di Cremona, padrona di casa. Adesso procediamo a sprombattuto, recuperiamo il tempo perso non sempre per volontà, anzi spesso non per volontà degli enti locali che ho citato poco fa, più per questioni burocratiche legate alla normativa nazionale. Ma l'obiettivo è di portare a casa il prima possibile, per quanto è compatibile con la burocrazia, questa che è il completamento di un'opera veramente fondamentale. Siamo trovati, ringraziando per la disponibilità a fare questo punto, gli amici di Stato Metropolitana per ridefinire un percorso, fare il punto sulle risorse, sulle procedure e soprattutto sui tempi relativamente a un progetto che ormai danni, che è sul tavolo di molti e che ha incontrato moltissime difficoltà burocratiche e procedurali.